La terza giornata entra nel vivo la regular season del campionato di Serie A 1 femminile dopo il recupero della seconda giornata che mercoledì sera ha visto il Sassari raggiungere la Iomi Sarerno in vetta alla classifica lo scontro diretto di domani suscita dunque forte interesse le due formazioni tra le altre cose sono state protagoniste anche della finalissima di Coppa Italia della scorsa stagione vinta alla fotofinish dalla compagine allenata da Giovanni Nasta domani si gioca sul campo delle sarde allenate da Carlo Baroffio per tre punti subito importanti in questo campionato arbitra nella gara il cui inizio è fissato alle 19 e i signori Alperen e Scevola e sfida tra le neopromosse e quella in programma al palazzetto dello sport di Lissaro per questo terzo turno si affrontano infatti il mestrino del tecnico Benin nella Lombardi Ecologia Conversano guidata da Suada Sejmenovic entrambe le squadre hanno tre punti in classifica ma chi ha vinto nell'ultima giornata è la formazione veneta sul campo del Nuoro le pugliesi invece sono uscite sconfitte in casa del Salerno il via domani in terra veneta alle 18 arbitri Carrera e Rizzo la terza giornata in calendario vuol dire primi tre punti stagionali per la vincente della contesa che si gioca in Sardegna tra HC Nuoro e leader Coppa Teramo per entrambe infatti non è ancora giunta la prima vittoria in questo campionato apertura dell'incontro in programma domani alle 17 direzione affidata ai signori Regalia e Greco